Eccoci qua e benvenuti a una nuova lezione! Oggi vediamo un cake al cioccolato e albicocche. Un cake semplicissimo, lo facciamo base olio. Come sempre il metodo è liquidi da una parte, solidi dell'altra. Uniamo i solidi ai liquidi, un po' di gelatina nel centro così. Perfetto! E andiamo in cottura, 170 gradi, 35-40 minuti. Bello glassato così. Controlliamo che non fa imperfezioni. Bene, quindi la lezione per il nostro cake con le albicocche con una glass al cioccolato, le nostre albicocche da decorazione o un piccolo decorino di cioccolato è terminata. Quindi ci vediamo per la foto finale e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!